Riprendiamo con Andante in do maggiore per flauto e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart trascrizione di Antonella Bona La musica di Mozart è la musica classica per eccellenza Infatti Mozart è il principale esponente del classicismo settecentesco i cui canoni principali erano l'armonia, l'eleganza, la calma imperturbabile e l'olimpica serenità L'andante in do maggiore K315 che questa sera vi proponiamo venne commissionato a Wolfgang Amadeus Mozart da un ricco olandese di nome Dejean Il brano ha una scrittura solistica semplice lineare è anche la parte sinfonica Tutto ciò permette al flauto che come detto non è trattato a livello virtuosistico di emergere senza dover competere con l'orchestra Scritto nella classica forma della sonata troviamo due temi Il primo con l'andamento di una serenata ricorda la melodia di un celebre quartetto di Haydn Il secondo è una barcarola soffusa di lieve malinconia seguiti da un breve sviluppo e una ripresa in cui la tonalità di sol minore carica di successione il suono del flauto Andante in do maggiore per flauto e orchestra di Mozart dirige Sandra Drago Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie. 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 Grazie.